Una chiave può essere schematizzata con un disco di raggio R pari a un centimetro e massa M con D pari a 10 grammi ed una sbarretta di lunghezza L di 3 centimetri e massa M con S 10 grammi, come rappresentato in figura. Determinare il periodo delle piccole oscillazioni supponendo la chiave appesa. Per il punto O, è un problema che ho solamente io, ma ho io perché a quei tempi ero presente in facoltà, io ho un vecchio testo, delle vecchie dispense, ecco l'è della Sapienza, questo testo è un testo assegnato, qua c'è scritto, leggo prova scritta, sono passati tantissimi anni, prova scritta di Fisica 1 del 16 giugno del 1999, in facoltà di Ingegneria Elettrica, c'è scritto distribuzione gratuita, erano delle dispense, al tempo non c'era Inter, non c'era Marcello, non c'era il canale dell'Ingegneria Cerroni e quindi dovevo comunque cavarmela da me. Tra l'altro qua vedo dei punti di domanda, io al tempo non lo sapevo fare questo problema evidentemente, leggo dei punti di domanda, in realtà voi invece che avete seguito il canale, ma dove trovate un canale così incredibile, colpi rigidi ormai sono sicuro sono già in vostro possesso, conoscete benissimo, avete capito che questo è un sistema rigido composto da un disco supposto omogeneo e un'asta, una sbarretta anch'essa supposto omogeneo, vi ricordo che in entrambi i casi la forza peso del disco è unicamente concentrata, agisce sul centro e invece qui sul punto di mezzo della sbarretta, quindi attenzione. Intanto per calcolare il periodo delle piccole oscillazioni, ci parlano di piccole oscillazioni, vuol dire che l'angolo di inclinazione, vedete che qui ci fanno vedere questa oscillazione, quindi questa rotazione, è evidente che sia minore o uguale di 15 gradi, il nostro teta, qui non è rappresentato ma la figura, l'avete vista, è questa qua. Io comincerei intanto a un po' calcoleggiare con Hürgen Steiner, perché dobbiamo calcolarci, visto che sarà presente nella seconda equazione cardinale, perché questo problema si risolve semplicemente applicando la seconda equazione cardinale, calcolerei il momento di inenza totale, I totale del sistema, che sarà ovviamente I del disco più I della sbarretta I con S, non a caso M con D e M con S sono rispettivamente la massa del disco e la massa della sbarretta. Piccola precisazione, immagino se avete passato da grammi a chilogrammi, vi ricordo che per passare da grammi a chili bisogna moltiplicare per 10 alla meno 3, per passare da chili a grammi moltiplicare per 10 alla 3, non vorrei che poi, attenzione che bisogna moltiplicare per 10 alla meno 2 invece per passare da centimetri a metri, quindi lì dobbiamo parlare in pratica di un 10 alla meno 2 chili per la massa di M con D, 10 alla meno 2 chili è anche la massa della sbarretta, attenzione che 3 per 10 alla meno 2 metri è la lunghezza della sbarretta, il raggio è, attenzione, 10 alla meno 2 metri, il raggio della sferretta, del disco rigido. Per il teorema di Eugen Steiner, cominciamo con un momento di inerzia del disco, il disco ruota, ovviamente insieme a questo, attorno a questo punto fisso, ce lo indica il testo, il testo ci parla di la chiave appesa per un punto O, ma avete capito? Non so se a casa vostra avete un armadietto, come definirlo, un mobiletto all'entrata, all'ingresso delle case, questi mobiletti dove ci sono le chiavi appese, ecco, la chiave sta penzolando, sta oscillando ed è attaccata appunto su questo vincolo, questo cardine O, e siccome ruota attorno al cardine, il disco, cari miei ragazzi, noi il momento di inerzia lo consideriamo, vi ricordo che in generale, il momento di inerzia del disco, ma rispetto al centro, lì, rispetto al centro, I con D, ve lo ricordo, è un mezzo M con D per R quadro, e su questo non ci piove, è chiaro che a questo bisogna sommare, visto che siamo qua, il teorema di Eugen Steiner, c'è da scrivere, più M del disco per R quadro, quindi questo sarà un mezzo M con D per R quadro, più M con D per R quadro, quindi sarà un tre e mezzo M con D per R quadro. Poi ci sarà da sommare il momento di inerzia dell'asta, della sbarretta rigida, ovviamente il peso è qui, ovviamente se facciamo riferimento però rispetto al centro, lo ricordo è un dodicesimo di M L al quadrato, quindi un dodicesimo I della sbarretta è un dodicesimo, qui non ricordo se, sì, L quadro, un dodicesimo di M della sbarretta L al quadrato, ma attenzione, su questo non d'accordo, a questo cosa bisogna sommarci? Sempre il solito discorso del teorema di Eugen Steiner, cioè cosa voglio dire? Noi siamo qua, l'asse è qui, per quando noi scriveremo l'equazione cardinale, il momento, lo calcoliamo, il momento assiale, se vogliamo scrivere dell'equazione scalare, ovvero l'asse che passa per questo cardinale, questo punto O, e quindi c'è la distanza di questo, da questo, ed è 2R e M, ovviamente, attenzione, M di D più M di S, che moltiplica cosa? La distanza che c'è tra i due, tra i due cose, tra i due assi paralleli, che è L mezzi più 2R, quindi, attenzione, dobbiamo scrivere, quindi occhio, ovviamente M di S, quindi più L mezzi, che è questo, più 2R, per M con S, ovviamente questo è al quadrato, M di al quadrato, sarebbe il teorema di Ergensteiner, e sì, è questo qua, niente, che vogliamo fare qua? Boh, vogliamo, vabbè facciamo un po' di somma, questo è ancora uguale, diciamo che questo è uno delle, qualcuno ha suonato? Ha detto qualcosa? Adesso guardiamo, chi sarà mai? Niente di importante, allora, cosa vi stavo dicendo? Facciamo i nostri conti, diciamo che il calcolo di questo momento di Ergensteiner era una delle cose più importanti, la domanda che vi faccio è, ma perché dite che i problemi su colpi di Ergensteiner sono difficili? Per calcolare il periodo delle piccole oscillazioni, tra l'altro, adesso facciamo i conti, lo ricordo che T è 2P greco su Omega, è la radice quadrata di che cosa? Del rapporto tra il momento di Ergensteiner totale, che è quello, diviso che cosa? E' attenzione, diviso mg per la posizione del centro di massa, quindi si potrebbe fare, scrivere la seconda equazione cardinale, dunque ci sono due modi per farlo, o scriviamo la seconda equazione cardinale, intendendo qui il verso orario negativo, verso il periodo positivo, quindi meno mg, scrivere che le espressioni con il seno, le due espressioni della forza peso totale, però a questo punto conviene calcolarsi, in pratica, la posizione del centro di massa, la possiamo chiamare D del centro di massa, che sarà M con D, posizione del centro di massa per quanto riguarda il disco, più M con S, posizione del centro di massa per quanto riguarda l'asta, la barretta, che poi abbiamo già visto qual è, e una volta fatto, diviso ovviamente la somma delle due masse, M con D più M con S, a quel punto il totale su M con S più M con G, M con S più M con D per G, per questa posizione del centro di massa, sotto la dice, è l'espressione del termine che moltiplica, è l'espressione del, non è altro che l'espressione del reciproco della pulsazione, ragazzi, quindi questo è quello che voglio fare, in questo caso conviene così, vi ho fatto vedere anche altre volte che invece si può arrivare anche mediante la seconda equazione cardinale, che qui in questo caso non lo utilizzeremo, altrimenti si può utilizzare quella, è uguale, scrivendo che in pratica meno M totale G per H, G per D del centro di massa, è uguale a, ovviamente per, ci sarà un seno di teta che sarà C k teta, visto che siamo in piccola oscillazione, è uguale a momento di netto totale, I totale per teta secondo il T, cioè per in pratica l'accelerazione angolare, no? ad ogni modo, dunque facciamo i conti, un mezzo M con D R quadro più M con D R quadro, beh, qui direttamente scriviamo tre mezzi M con D R quadro, è così, abbiamo trovato la testa al toro, no? sì, M con D è la massa del disco, poi qui abbiamo un dodicesimo, la massa della sbarretta M con S L al quadrato più, qui verrebbe un un quarto M con S L quadro più 4 M con S R quadro, in pratica, attenzione che c'è anche il doppio quadrato, perché c'è il quadro del primo che è L quadro quarti, il quadro del secondo che è 4 N quadro e poi c'è un 2 R L M con S e in definitiva, in definitiva, raccomando M con S in questi ultimi quattro termini, si può scrivere l'espressione del momento di netto totale, somma del momento di netto del disco e della sbarretta, che vi ricordo, in pratica, stiamo calcolando un rispetto, però attenzione il sistema ruota, no? sta oscillando attorno al cardine, quindi abbiamo un 3 mezzi M con D R quadro e niente, diciamo così, più un dodicesimo di L quadro, possiamo sommarle questi due? Sommiamole, va? Questo è un 3 dodicesimi, 4 dodicesimi, un terzo, più un terzo, L quadro, più 4 R quadro, più 2 L R, tutto quanto per la massa, dello sbarretto, raccolto M con S baricata, questi due lo sommato e poi questi qua. Dunque, vi dico subito, che se fate questo conto, vi dovrebbe venire, vi deve venire 1,45, verificatelo, per 10 A meno 5, ovviamente kg per metro al quadrato, no? Come vuole l'unità di misura del momento di inerzia. Il problema è fatto a questo punto, perché chi è la posizione, calcoliamo questa D, chiamiamola così, D del centro di massa, allora, vi ricordo la formula per calcolare la posizione del centro di massa, in questo caso, chi è? Allora, per il disco abbiamo A, la massa del disco per R, M con D per R, più, e attenzione, massa della sbarretta che moltiplica L mezzi più 2 R, che poi, già avendo capito prima, è uguale, no? Come siamo qui, e questa è la distanza, 2 R più L mezzi, diviso che cosa? Beh, la somma delle masse. Giusto? È questo che è D. Allora, se fate questo conto, così poi ce lo rimettiamo, ce lo sbattiamo nella formula del periodo, senza troppi complimenti, se fate questo conto abbiamo tutto, passate, quello è un, ripeto, un 10 alla meno 2 chili, questo è un 10 alla meno 2 chili, questo è un 3 per 10 alla meno 2 metri, quello è un 10 alla meno 2 metri, ovviamente questo sarebbe 10 grammi per 10 alla meno 3 per avere i chili, ma 10 per 10 alla meno 3 è un 10 alla meno 2, non so se l'avete capito. Comunque, se fate questo viene un 2,25, 2,25 per 10 alla meno 2 metri, se vogliamo passare in metri, altrimenti moltiplicate per 2,25 centimetri, non cambia niente, moltiplicate per 2 per avere i centimetri, se volete rimanere in centimetri, T è 2 pi greco su I totale diviso M con S più M con D, G per D del centro di massa, ecco chi è la nostra, no? È quello l'espressione, dove I totale è questo qua, D del centro di massa è questo, G è 9,8,25 quadro, ovviamente bisogna sommare le due masse, ebbene, se fate questo conto, sotto la dice, lo moltiplicate per 2 pi greco, ottenete un'espressione in secondi che equivale a 0,36, 0,36, aggiungo io, asino che sei, 0,36 secondi, questo era un problema siccome non difficilissimo, ma nemmeno proprio banale, banale, tratto, ripeto, dall'esame di una prova di fisica 1 assegnata alla facoltà degli studi, quella dico, la sapienza di ingegneria elettrica, aggiungo io, 98-99, anno accademico 98-99, quindi l'anno dello scudetto del Milan di Zaccheroni, tra l'altro, posso permettervi di dire, in particolare è l'appello della prova scritta del 16 giugno del 99, ad ogni modo, cari miei ragazzotti, abbiamo risolto anche questo onoreo, ciao a tutti.